... Così che asomai saluto anche le ragazze se posso entrare a casa. Se posso entrare a casa, mi darai il perversi di entrare a casa. ... ... ... ... ... ... ... Cioè, lo dovete dire voi. ... Cioè, nel senso, non è chiedere al bucchiere, nel senso che voi dovete darmi il perversi. Cioè, nel senso, secondo voi, sia te che lei, sia le ragazze, mi dico se posso entrare. G 못 fatto. ... ... C'è una propria funzione alla stanza. Perché è una stanza sola? No, è tre stanzi diversi, ma io qualche volta non posso entrare perché loro hanno delle cose in cuore. Mi vomito. Spero sapere. Vincere, come esempio, sono mezze nude. Sì. Così vedo il commento è soccorso. Quanto ho pagato un prezzo? No, non dobbiamo pagare perché questa è un paio.